C'è un tema di grande attualità, qual è la situazione in questo momento del mercato obbligazionario? Lo abbiamo chiesto ai consulenti finanziari indipendenti dello studio Q Consulenze Finanziarie, sentiamo. Siamo di nuovo con gli esperti dello studio Q Consulenze Finanziarie e con Massimo Guerrieri cerchiamo di capire meglio il mondo delle obbligazioni, partendo anche dalla nuova legge recentemente entrata in vigore sul bail-in. Dunque Guerrieri, allora a cosa deve prestare attenzione il risparmiatore che ha obbligazioni o che sta valutando di acquistarne? Come sappiamo comprare un'obbligazione significa comprare il debito o dello Stato o di un'azienda. Come diceva lei è entrata questa legge, il bail-in e quindi è importante che per ogni risparmiatore presti più attenzione appunto perché le obbligazioni possono essere azzerate. I rischi che vediamo principalmente sono tre. Il primo è il rischio emittente, seguito poi dal rischio tassi e dal rischio illiquidità. Il rischio emittente lo reputiamo il rischio diciamo più grave perché proprio se sbagliamo a dare i nostri soldi rischiamo proprio che non ci vengano rimborsati. Vediamo che oggi specialmente nel settore bancario le sofferenze sono un po' il punto debole del sistema e rispetto all'Europa sono molto alte, ovvero un 17% di soldi prestati che poi non rientrano. Mediamente in Europa siamo attorno a un 3-4% e di conseguenza il rischio emittente è abbastanza alto e quindi bisogna fare attenzione. Ecco, cerchiamo di capire allora bene il rischio tassi di interesse, come questo rischio può eventualmente riguardare le obbligazioni. Sì, il rischio tasso è altrettanto importante, ovvero il funzionamento delle obbligazioni, ci riferiamo a quelle a tasso fisso, funziona laddove i tassi calano e i prezzi aumentano. Viceversa, se i tassi dovessero aumentare, cioè invertire la rotta, i prezzi inevitabilmente calerebbero. Questo cosa significa? Significa che specialmente per le durate lunghe, qualora si verificasse anche in Europa, come in America sta già accadendo, un'inversione dei tassi potremmo avere forti perdite. Ecco, per dare qualche numero, obbligazioni ai 30 anni potrebbero perdere fino al 30%. Altri aspetti a cui dobbiamo fare attenzione relativamente alle obbligazioni, quali sono? Un altro rischio che è in divenire, anche se al momento non lo percepiamo, è il rischio illiquidità sulle obbligazioni. Ovvero, sui mercati americani già presenti, io voglio vendere la mia obbligazione perché ho bisogno di soldi, piuttosto perché la reputo troppo rischiosa non trovo una controparte che me la comperi. Questo cosa fa sì? Fa sì non solo che io sono vincolato a tenere i miei soldi fino alla scadenza, anche contro la mia volontà, ma se poi invece la voglio vendere a tutti i costi posso perdere anche metà del mio patrimonio per poterla vendere. Per fare un esempio è un po' il caso degli immobili, anche se io voglio vendere un immobile lo devo svendere. La differenza è che l'immobile in ogni caso rimane. L'obbligazione, come dicevamo all'inizio, con il bail-in mi può essere e invece può essere azzerata, quindi massima attenzione anche su questo rischio.